dopo aver parlato di katsumiura dal sollevante ci spostiamo in sud america per andare a recensire io quello che non definisco un bidone ma anche fabio belli ha detto così nel suo video ma piuttosto una meteora e una promessa mancata stiamo parlando di gustavo neffa che non è il cantante perché neffa il cantante ha preso il nome da lui però neffa è stato un giocatore ad occhiavo dalla juventus girata alla cremonese che era un fan prodice del calcio paraguagliano e sud americano che a 16 anni aveva già disputato la coppa america poi insomma fabio le cose non sono andate come dovevano andare anche perché lui poi diciamo che a un certo punto non ci ha creduto fino in fondo ha pensato più alla sua vita privata puoi raccontarci meglio qualcosa di neffa prego sì neffa è il classico giocatore sai che rubava l'occhio no tant'è che la dirigenza della juve qualcuno dice che fu preso addirittura su input diretto all'epoca dell'avvocato agnelli che l'aveva visto questo pischello di 16 anni paraguagliano ha detto no no questo diventerà il nuovo qualsiasi cosa perché lui coi piedi ci sapeva fare molto questo va detto tant'è che una domenica sportiva dell'epoca apre un servizio sulla cremonese con neffa che palleggia ma davanti proprio ecco al parcheggio e questo qui cioè lo beccano che fa i suoi numerilli da solo però era un giocatore tatticamente anarchico e come hai ricordato anche tu francesco molto poco inclina al sacrificio tant'è che il proseguimento della sua carriera post cremonese neanche a dirlo che la juve chiaramente non ci pensa nemmeno di portarlo a torino fa veramente poco lui è una parentesi al boca in argentina però non non arriva non solo ai livelli che si pensavano quando era un under ma nemmeno a livelli diciamo decenti di un calciatore professionista però è un po questa area esotica e anche particolare di un giocatore ecco molto dotato ma avete visto anche piccioni è all'uomo coi baffi quello non ce lo toglie nessuno e neffa rimane lì e c'è questa cosa insomma di di gustavo pellino in arte neffa che o gaetano non mi ricordo come si chiama che prende il nome d'arte da sto giocatore di cui pochi si ricordavano in realtà però stava lì tra le altre cose lui sposato con la tennista rosana de lo rios paraguaiana come lui diciamo che poi ci sono state anche storie che hanno raccontato che lui abbia staccato un po la spina anche per dedicarsi a lei per dedicarsi alla sua famiglia anche se poi la verità la può sapere solo lui sta di fatto che poi lui era un classe 1971 se penso al fatto che lui da giovanissimo ha disputato due volte la coppa america e poi non va era ruolabile potenzialmente anche per il mondiale del 98 del 98 aveva 27 anni ma praticamente già era un giocatore sparito dai radar non solo del calcio italiano ma di tutto il calcio sudamericano americano e in generale quindi insomma sapete chi mi ricorda un po come storia perché poi io neffa non l'ho vissuto perché ero molto piccolo però invece quest'altro che vi sto raccontando l'ho vissuto mi ricorda molto la storia di joiner montagno ex trequartista colombiano dal parma prestato anche al verona che fece era praticamente un semi titolare nella colombia nella coppa america del 99 ma poi si è eclissato strada facendo e montagno adesso ha 40 anni quindi potenzialmente poteva ancora giocare perché è un 83 vittorio riccardo volete aggiungere qualcosa su neffa parto da riccardo perché l'ha vissuto neffa no sì no più che altro ricordo la cremonese di quegli anni che era una squadra simpatica che desotti ricordo piccioni ma ricordo soprattutto con grande simpatia perché ne parlavo non più tardi di qualche mese fa perché agostino jacobelli eh allena qui vicino a me allena in eccellenza e qualche volta ci capita così nelle nelle trasmissioni televisive locali del calcio dilettanti di andare a cena insieme jacobelli giocava in questa cremonese ma c'era era una buona cremonese che di giocatori c'era anche albiero chiorri giocava in questa cremonese gli ultimi gli ultimi spiccioli chiorri giocava con con questa squadra qui e e jacobelli appunto mi ricordava degli anni a cremona che lui ormai era era a fine carriera e ricordava di essersi trovato bene c'era giagnoni cici simoni l'ha allenato pensa che allenatori ci sono passati il grande luzzara come presidente e jacobelli mi ricordo mi raccontava della cremonese non nel particolare di neffa insomma gli parlava eh come perché loro facevano serie A serie B serie A serie A diciamo che come si dice era una sorta di squadra ascensore io poi l'ho vissuto però jacobelli ci tengo a dirlo visto la maglia che ho dietro jacobelli nasce nella primavera del napoli e ogni volta che ci parla mi dice sempre io di giocatori l'ho visti uno rude croll quando venne croll nell'ottanta a napoli io vedi la madonna lui era un ragazzo che si allenava il giovedì con la prima squadra e lui mi racconta sempre i giocatori l'ho visti tanti ma come quello nessuno beh diciamo che è annoverato e l'abbiamo detto più volte in questa sede tra i migliori difensori della storia del calcio ci fa piacere che lo abbiamo rivisto anche in italia in ottima forma al napoli dall'ottanta al millenovecentottanta quattro ma lui soprattutto identificabile con la grande olanda di rinus michels e con l'ajax vincitrice di tre coppe campioni nel negli anni settanta eh vittorio parola a te sia su neffa ma anche su quella cremonese che poi eh come come stava dicendo riccardo nel corso degli anni si era conquistata questo ruolo di squadra simpatia perché poi tra gli stranieri che ci hanno giocato facendo anche bene a differenza di neffa c'erano anche dei zotti e matias floriancic floriancic sì grande copia d'attacco con andrea tentoni oltretutto poi quella quella cremonese viene ricordata principalmente per neffa diciamo che come avete già detto voi viene più ricordato per l'extracampo e per il l'ispirazione di neffa il cantante che ha preso il nome d'arte da lui ricordo che vinse la coppa angolo italiana con gigi simoni in panchina la cremonese poi il cremonese che qualche anno dopo come avete detto voi ha potuto sfoggiare attaccanti del calibro di floriancici di tentoni di un giovane di un giovane ricocchiesa comunque in quei primi anni 90 la cremonese era una realtà importante del dj turci c'era in porta dj turci e altri giocatori che adesso mi ricordo c'era eh glauco sclosa giocatori del genere gualco scusami giocatori c'era Favalli e Marcolin che poi le prese Favalli Marcolin e Bonomi vennero tutti la razza in porta Rampulla c'era in porta che segnò anche un gol che segnò con l'Atalanta con l'Atalanta il famoso gol di testa di di Rampulla sì è vero allora non ci perdiamo neffa vittorio no scusa hanno sentito Francesco no ti chiedevo un parere su neffa perché poi comunque abbiamo parlato perché poi tra le altre cose ho visto che sulla tua pagina adesso stai facendo questa sorta di sondaggi sfide per stabilire chi è il peggior bidone sudamericano che ha transitato in Italia e c'era anche lui di recente esatto si era inserito nella fase eliminatoria ma anche se io so già come andrà a finire su chi vincerà perché mi è capitato di fare altri sondaggi tempo fa riferiti al Brasile e all'Argentina quindi penso come ti avevo spiegato un'altra volta secondo me il vincitore alla fine sarà Vampetta poi vedremo come andrà a finire però ne sono più che certo a finire